Il progetto è nato da... siamo stati interpellati dal professor Bani e ci ha spiegato che loro come ragioneria sportiva fanno un mese in tutti gli sport e abbiamo individuato nel mese d'aprile, perché il calcio è uno sport che si gioca all'aperto e quindi abbiamo individuato nel mese d'aprile il fatto di venire qua a fare delle lezioni. Il progetto che avevano loro era di strutturare quattro lezioni al venerdì, due classi dalle otto e mezzo alle dieci e mezzo e dalle dieci e mezzo al mezzogiorno e mezzo, le due classi venivano qui al campo e facevano attività sportiva con i nostri preparatori, con i nostri allenatori, con i nostri tecnici. L'abbiamo fatto volentieri perché penso che sia uno scambio di conoscenze e di esperienze. Loro ci portano qualcosa a noi e noi probabilmente riusciamo a portare qualcosa a loro. Ci abbiamo dei tecnici preparatissimi, Fabio Pallari che ha seguito tutto il progetto è stato bravissimo, ho ricevuto tanti complimenti sia dal preside che dal professor Bani, che come si è svolto e anche tutti i ragazzi che si sono alternati, da Tommaso Pettoni a Gian Maria Bernini, a Stefano Stagno e anche agli altri che non cito, hanno fatto una cosa molto bella e sono stati impegnati ma il loro impegno è stato qualcosina che ha lasciato a questi ragazzi qualcosa di importante.